Nagatomo o Nagatomo? Nagatomo ormai non consideriamo un giapponese, ormai è diventato più di italiano quindi lui perché fa delle volte anche capitano ormai lui è uno dei italiani, un gran giocatore ormai Se Perugia torna in Serie A vai a festeggiare a Perugia? Beh, speriamo, speriamo che mi invita anche